Torti nel corridoio, Barton cerca il guizzo, Barton in aria, vuole ricominciare da capo, Barton ancora di suo finto, Barton, che non può troppo su Truby, riesce a andare via, Barton ancora, balla all'inviato, è il palazzo di Dimitri! Ah, lei inisce! E ora uno, Fiorentina uno! Ha fatto tutto il parte! 44 minuti, 26 secondi! Tra battoni non ci crede! Gravissimo errore, secondo me, della difesa della Fiorentina! Gravissimo errore di distrazione! Tutti distratti, dentro parte il gran numero del faccia! Eccolo, rientrare il faccia! Dentro, due volte! Grandissima giocata questa! Poi alza la testa, mette dentro a Lenice, fino a anticipo, palla dentro, uno a uno, la Roma è nove e pareggia! La Roma adesso va bene così! Non ha Zeman che chiede ancora pressione! Parte! Colpo di tacco per Di Francesco! Totti! Di Francesco! Uno contro uno! Sul plasso! Andato in mezzo da Masi, parte! Attivare il rigore! Stracciato! Totti! Un'incubo per la Fiorentina! Un'incubo per la Fiorentina! Un'incubo per la Fiorentina! Incredibile! Una partita che sembrava già chiusa! Incredibile! Era una partita senza logica nel secondo tempo e senza logica bene per la Roma, male per la Fiorentina è stato anche il finale al quarantottesimo, quarantanonesimo in corso, la rete di Totti!